Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, in questo video parliamo di un grave lutto in primis per Tiberio Timperi, ma più in generale per tutta la televisione italiana. Un fulminaccio al sereno ha colpito la televisione nostrana e prima di iniziare vi ricordo che, qualora questo video dovesse superare i 700 mi piace, ne pubblicherò immediatamente uno nuovo. Tiberio Timperi ha dovuto dare una tremenda notizia in diretta, una notizia che nessuno si aspettava, pietrificato. Il mondo del giornalismo, il mondo della televisione italiana, la RAI e Mediaset sono costernati per la triste quanto inaspettata perdita. Stiamo parlando della scomparsa del grande giornalista Andrea Purgatori, che per anni ha lavorato al Corriere della Sera, dove si è occupato di intelligence e criminalità. Di recente aveva condotto con successo sulla Sette, Atlantide, Andrea Purgatori è scomparso a 70 anni per una malattia fulminante a fornire la notizia in diretta. Sono stati proprio Tiberio Timperi e Serenautieri ad uno mattina una notizia che ha pietrificato tutti gli spettatori e che i due conduttori, ovviamente, non si aspettavano il gelo e calato in studio nell'apprendere della triste scomparsa del collega Andrea Purgatori. Il primo canale di Marco Liguori, con immenso dispiacere, ricorda un grandissimo del giornalismo, del giornalismo d'inchiesta e della televisione italiana Andrea Purgatori, che ci ha lasciato all'età di 70 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, aspetto i vostri commenti su questo video. Vi ricordo che potete seguirmi sulla pagina Facebook Marco Liguori, potete seguirmi sugli altri miei canali, secondo canale di Marco Liguori, canale che parla delle notizie di cronaca, e sul nuovo canale di psicologia Marco Liguori, psicologia e crescita personale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti.